Anch'io cercherò di essere veramente breve, ho attivato la telecamera giusto per farvi un ciao con la mano presentarmi, vabbè posso dirvi semplicemente che sono fondatore e vicepresidente insieme a Flavia Marzano di Libre Italia al momento, sono parte di The Document Foundation che è la fondazione che sta dietro Libre Office ma penso che molti di voi magari già mi conosceranno chiudo la telecamera e provo ad andare avanti, sì eccolo qua con le slide io non ho moltissimo da dire perché sostanzialmente molte cose sono già state dette e altre verranno dette quindi non voglio andarmi a sorapporre diciamo io qui vedete ho scritto a chi dare la colpa perché poi il problema quello che vorrei affrontare è diciamo il punto di vista del genitore in questo caso mi metto dall'altra parte, un genitore però informato, purtroppo spesso anche più delle scuole insomma quindi il mio problema qual è stato? La scuola di mia figlia che mi ha proposto una GDPR una, come si dice, un'informativa che io ho rigettato scrivendoci che era irricevibile perché è scritta con i piedi, veramente, ma il problema, a chi dare la colpa? fondamentalmente la questione è che qui in Italia ogni scuola, ogni comune, ogni ente locale è fine a se stesso, cioè è abbandonato a se stesso se vogliamo quando in realtà le problematiche sono comuni a tutte le scuole, a tutti i comuni, a tutti questi enti quindi secondo me ci arriveremo, sarebbe il caso di organizzarsi quindi che succede? Che probabilmente, anzi sicuramente, la scuola di mia figlia è stata consigliata male l'avvocato, la persona che insomma ha redatto la GDPR tanto per cominciare ha scritto un documento secondo me irricevibile e io non gliel'ho firmato per esempio tanto per cominciare, dopodiché mi è stato anche detto ah ma non serve la privacy per iscrivere, per fare l'account su Google Meet perché io mi sono anche rifiutato di usare Google Meet, Classroom e tutte queste belle cose qui perché ho detto guardate io sono il tutore, sono il padre di mia figlia finché non c'è 18 anni, non voglio che Google sappia che esiste mia figlia perché non troverete in giro fotografie di mia figlia, non troverete nulla perché ci sono stato attento e perché faccio questo mestiere quindi, no no, non serve, come non serve? scusate, qui stiamo parlando di un paese estero, nello specifico americano dove la sentenza, no, che ha ben citato, hanno ben citato le persone che mi hanno preceduto in particolare Paolo voglio dire, ha specificato per bene che non è compatibile la loro parola con la nostra, quindi manco per niente, io mi oppongo vostro onore come dice il film quindi la questione però non è facile perché poi il problema qual è? che questi dirigenti scolastici, queste persone tanto per cominciare sono tenute per legge a sapere queste cose sì, però non è che fanno gli avvocati, non è che fanno gli informatici non è che fanno... quindi loro hanno un altro mestiere nelle mani hanno quelle della formazione, hanno quelle del sapere insegnare quindi li capisco, cioè bisogna saperli anche capire queste persone che si trovano tra incudine e martello quindi non sono stato, diciamo, per la guerra frontale, tra virgolette la mia non è stata ho cercato di avere un approccio non per l'appunto rompiscatole anche perché poi in ultima analisi chi ci rimette sono sempre i bambini ora i miei figli fanno elementari quindi poco male ma poi più crescono e peggio è sotto questo punto di vista quindi bisogna anche cercare un po' di capire il loro punto di vista la loro posizione ed essere costruttivi essere, diciamo, per l'appunto collaborativi e quindi cercare di aiutarli, aiutare queste persone a risolvere il problema e non porli davanti, cioè metterli davanti a un muro e dire ora me lo devi risolvere tu faccio presente, qui c'è questo modulo di richiesta che Marinello mi ha tempo fa sottoposto che io mi sono divertito a rimpaginare facendolo diventare anche un pdf editabile e che si trova, questo è un link quindi nelle slide potete cliccare si trova nelle pagine del lug di Bolzano se non ricordo male, comunque il link ripeto funziona quello è un modulo attraverso il quale uno può chiedere alla dirigente scolastica o al dirigente scolastico di dar risposte in merito per l'appunto della GDPR mi dici, siccome chiaramente è un diritto sancito proprio dalla GDPR dalla normativa sulla privacy io voglio sapere cosa sai di mia figlia dove lo tieni questi dati chiaramente quindi si può chiedere attraverso questo modulo io per il momento non l'ho ancora fatto cioè pur avendo io preparato il modulo pdf compilabile ho preferito per il momento non inoltrarlo ancora la scuola ma approcciare in maniera più bonaria con una serie di mail e devo dire che ha funzionato nel senso che la preside, la dirigente scolastica ha sempre risposto con molta cortesia e molta educazione insomma si sta creando un rapporto di collaborazione efficiente, efficace, devo dire piacevole anche insomma non ostile detto tutto ciò il problema di fondo secondo me è che ci si dovrebbe organizzare cioè questa è una problematica che hanno tutte le scuole d'Italia quindi tendenzialmente sarebbe bene che il MIUR in questo caso ma altri diciamo cioè secondo me dovrebbe esserci un servizio informatico nazionale sostanzialmente non è possibile che noi che il MIUR in questo caso abdichi al suo ruolo e consigli piattaforme straniere a pagamento e non conforme GDPR quando abbiamo già in piedi come stiamo usando ora per esempio BigBlueButton presso il CNR no scusate presso di garra ma comunque ci sono delle sessioni anche su CNR quindi cosa voglio dire noi abbiamo queste realtà già funzionate oltre al software open source che hanno citato tutte le persone che mi hanno preceduto le abbiamo anche già installate in piedi in questo momento le stiamo usando quindi funzionano quindi è un problema di conoscenza di sapere cosa c'è e cosa non c'è e di dare i giusti consigli e se serve di implementare di aumentare di creare questo servizio informatico nazionale di fare una server farm nazionale italiana e metterci su tutti i servizi che ci servono in house, in casa, italiani senza uscire dai confini esistono dei progetti quali appunto il FUS di cui parlerà immagino Paolo D'Angilli subito dopo di me quindi lui illustrerà un caso pratico una best practice come si dice che sta funzionando già da svariati anni nel suo alto adige che probabilmente non si chiamerà così perché mi sbaglio sempre col trentino bla 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 comunque avete capito quindi infine qui ricito la lettera di me di cui Flavia ha già parlato nel suo intervento qui c'è il link per andare proprio a leggere integralmente questa lettera io ho finito come dicevo non c'erano moltissime cose da aggiungere perché molto è stato già detto io volevo solo aggiungere il mio punto di vista da genitore informato da persona chiaramente del settore se vogliamo quantomeno per quanto riguarda l'informatica e quindi questa problematica dell'approcciarsi con le scuole chiaramente non ho potuto vedere se ci sono domande per me perché stavo parlando magari proverò se ce ne sono ad andare nella CIRRUM vi saluto e vi ringrazio per ora poi tanto rimarrò chiaramente tutta la giornata in ascolto e in moderazione grazie a tutti di essere partecipati di essere partecipato così numerosi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti